Torniamo a seguire questa settimana il campionato regionale giovanissimi B, tre tempi da 20 minuti con l'Arezzo B che in classifica come avevamo già notato in occasione proprio del primo storico derby con l'Arezzo A di qualche settimana fa, una squadra che sta andando abbastanza bene con 14 punti in classifica, settimo posto oggi affronta il Prato B, la categoria 2005 Pagisi, al volo Kakashi, splendido per Luconi, Naga Trigori, Luconi è entrato in area, affonda in area parte il diagonale, invio di Suzzi, recupero poi di Stopponi, buono lo slalom e poi lancia Luconi grande pezza qui messa da Giazzi, c'è però Kakashi in seconda battuta che riapre di nuovo per Luconi Luconi per Kakashi, palla di ritorno, dialogano splendidamente due, ancora Luconi, Naga Trigori, Luconi slalom su Pisagnello, Luconi la mette in mezzo e c'è la presa di Landini parte il cross, c'è il colpo di testa in rete, Pisagnello porta in vantaggio il Prato B sul primo calcio d'angolo di questa partita, arrivata la rete di Pisagnello, il quarto gol in campionato per Pisagnello che dunque ha una certa confidenza collegati, qui lo stacco si è rivelato preciso e dunque il Prato B è passato in vantaggio palla messa dentro da Pisagnello, attenzione, palla lì per la conclusione di Mema e poi il gol, il gol da parte di Tassi Tassi raddoppia per il Prato B di fatto gol anche in questo terzo tempo da parte del Prato B con Tassi dopo il primo spunto di Mema sulla battuta di Pisagnello e l'arbitro dichiara qui, concluso il confronto il Prato B dunque batte l'Arezzo B 0 a 0 il primo tempo 1 a 0 per il Prato B il secondo e il terzo tempo primo gol di Pisagnello, secondo gol da parte di Tassi l'Arezzo che era partito forte nel primo tempo trovando diverse occasioni per cercare la rete che non è arrivata poi Prato B sicuramente meglio nel secondo e nel terzo tempo adesso tra poco andremo a sentire l'allenatore dell'Arezzo B Stefano Saviotti insieme a Stefano Saviotti, allenatore dell'Arezzo B una squadra che era partita molto bene al primo tempo abbiamo visto anche belle giocate poi alla lunga il Prato è venuto fuori sì, oggi il campo non facilitava il gioco palla a terra che cerchiamo noi di promuovere ogni partita infatti il primo tempo attaccando forse nella metà campo più intatta abbiamo giocato bene uno o due veloci, girato palla bene magari siamo stati un po' carenti sottoporta nel finalizzare le occasioni create alla lunga infatti il campo pesante la nostra forse fisicità inferiore rispetto all'altra squadra ha fatto sì che gli altri dominassero la partita dominassero hanno fatto bene o male tre azioni su palle inattive di cui due gol e il calcio è questo i episodi vanno a favore degli altri pazienza ci rifaremo magari la prossima partita sperando che il campo sia meglio siamo alla fine dell'anno che bilancio fai di questi tre mesi? questi tre mesi positivi il fatto di aver già avuto nella squadra ragazzi che erano qua già l'anno scorso ha vantaggiato il lavoro sicuramente infatti dal punto di vista dei risultati sono stati positivi sotto le squadre di prima fascia come possono essere Fiorentina e Empoli ci siamo subito noi in classifica quindi buono le prestazioni secondo me sono positive possiamo crescere ancora di più quindi ci aspettiamo il 2018 migliore grazie a tutti